Riaperti gli argini padovani, nella serata di martedì alla luce del nuovo DPCM del 26 aprile che consente un maggior svolgimento delle attività sportive all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza che revoca la chiusura degli accessi agli argini padovani, luogo preferito di molti podisti. Il sindaco ha tenuto conto anche dell'ordinanza del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, del 27 aprile, che consente lo spostamento individuale per attività motorie e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo in tutto il territorio comunale di residenza o di mora, con divieto di assembramenti e con obbligo della distanza di un metro tra persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherina e guanti. Si tratta di una decisione che tiene conto sia del mutato quadro di norme e della sua evoluzione, sia della necessità di non generare confusione tra una miriade di provvedimenti di varia natura che possono indurre incertezza nel cittadino, ha dichiarato il sindaco Giordani, invitando però i suoi concittadini alla prudenza e al senso di responsabilità. Padovani, usate la mascherina, evitate assembramenti, siate cauti, tenete la testa sulle spalle e aiutateci a gestire in maniera ordinata e rispettosa questo momento di transizione che avviene in un periodo delicatissimo dove l'epidemia e il suo andamento dipende dal rigore dei nostri comportamenti personali e quindi collettivi, conclude Giordani.